Buonasera, siamo qui nella boutique di Anna Ritaenne e scopriamo un po' questa collezione autunno-inverno. Benvenuti intanto, grazie di essere passati. Siamo venuti a presentare qui nel nostro negozio di Milano una capsule della collezione invernale che si divide in diversi temi. Questo tema che è esposto è un tema piuttosto allegro e frizzante perché comunque rispecchia un po' l'anima colorata che c'è in ognuno di noi, con questi toni freschi, light dei colori. La collezione si divide sicuramente in più parti, quindi una parte dedicata alla donna aggressiva con un richiamo magari al mondo rock anni 80, però sussurrato, mai troppo sfacciato. C'è anche come base molto nero, però giochiamo molto con il colore, è una cosa che ci contraddistingue da sempre. Forte, quasi aggressivo, ma sempre molto elegante. Ho visto un po' come il leitmotiv di questa collezione una stampa floreale bellissima che si ritrova anche su un abito bustier che è stupenda. Sì, questa è una stampa a degradé fatta nei vari tessuti dallo scuba allo chiffon che abbiamo fatto girare nei vari outfit, nei vari modelli. Devo dire che noi siamo fuori in campagna vendita con i rappresentanti già da qualche mese e ha riscosso notevole successo, perché comunque è bene che sia inverno, ma è bene che sia allegro e che comunque dia sempre una voglia di un tocco di femminilità e di freschezza. A livello di materiali, quali saranno i maggiori prediletti della prossima stagione? I prediletti da Anarita N sicuramente sono i materiali, quelli tipici dell'inverno, quindi personalmente, ed è, faccio un inciso perché comunque la lana è un materiale meraviglioso, lana e tutti i suoi accostamenti. Devo dire che da qualche anno però le donne amano molto i tessuti leggeri, anche in inverno, ma leggeri magari stretch, cadì, questi tessuti fluidi, cascanti, che danno la possibilità di vestire, perché comunque hanno lo stretch dentro, ma che hanno una fluidità, questi cadì, molto interessante, che si accompagna comunque alle forme del corpo e all'andamento. Leggerezza, sì, ma vedo anche un po' un tocco di calore dato dalla pelliccia, ho notato magari qualche tocco nella collezione? Sì, assolutamente, devo dire che un po' è una nostra passione abbinare comunque la confezione a qualche tocco di pelliccia. Quest'anno c'è molto ecologico perché è di grande tendenza, quindi ci sono, sì, magari dei piccoli gilet o dei gilet come sta indossando la modella, di pelo vero, ma tanto ecologico, divertente, l'abbiamo fatto rigato, rosso, piuttosto che rosa cipria e diventa un inverno così caldo, ma allegro e possiamo indossarla tutti, la pelliccia, senza scrupoli. Quindi c'è da divertirsi, insomma. Assolutamente, sì, sempre. Grazie. Grazie a voi.